Ciao a tutti sono Bonf777 e benvenuti nell'inzaghi economico Prima di iniziare io però come sempre vi ricordo di mettere mi piace a questo video per avere altri giocatori economici, altre leggende economiche E vi ricordo di commentare qua sotto nei commenti scrivendo un'altra leggenda di cui voi vorreste vedere la controparte economica Ce ne sono ancora tantissime quindi io ne posso fare ancora molte e boh fatemi sapere voi qua sotto nei commenti io poi ce ne sceglierò una Allora l'inzaghi economico è Giuseppe Rossi Non ho scelto solo uno stavolta ho scelto solo l'italiano perché mi sembrava abbastanza completo per essere un inzaghi economico Andiamo però a vedere le statistiche subito Allora inzaghi 85 di velocità Rossi 84 quindi siamo lì Inzaghi 76 di dribbling Rossi 84 quindi addirittura più per i giocatori della Fiorentina Il tiro anche qua molto simile 82 contro 83 Difesa pure 31 contro 28 Il passaggio invece è 49 per l'ex giocatore del Milan contro il 74 per l'ex Villareal Anche qui quindi c'è un po' di differenza E per finire la fisicità è 55 di Inzaghi contro il 52 di Rossi Come potete vedere da queste statistiche c'è molta somiglianza tra i due Sono quasi uguali cambiano ovviamente qualcosa qualche numero Però anche provandoli si può vedere che sono simili sì Forse addirittura tra i due preferisco Rossi E adesso ve lo spiego mentre vi dico le statistiche in game e tutta sta roba qua Le stelle mosso abilità e le stelle piede debole sono 3 e 3 per entrambi Però abbiamo che Rossi e Mancino Inzaghi invece è destro Vabbè questa non è una grossissima differenza però comunque ve la dico Mettendo un attimo da parte Inzaghi andiamo a vedere un attimo quelle migliori di Rossi Perché ad esempio troviamo l'87 di controllo palla L'85 di finalizzazione L'86 di accelerazione L'86 di bilanciamento L'87 di posizionamento Invece in Inzaghi troviamo il 94 di finalizzazione Che in qualche modo era alto anche in Rossi era 85 Abbiamo la precisione di testa Cosa che Rossi non ha C'è addirittura 20 di differenza L'83 di Inzaghi contro 63 di Rossi Abbiamo il long shot a favore del giocatore della Fiorentina Qua di 20 pure qui sì L'82 contro 61 Perché proprio Inzaghi con long shot non si è mai visto Pure per i colpi al volo siamo là 88 contro 83 Un po' di differenza si trova nelle reazioni Che è il 93 dell'ex Milan contro il 79 di Pepito Però se andiamo a vedere le statistiche in game Possiamo vedere che Inzaghi ha 1728 Che per una leggenda è poco Sì 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 è poco Invece Rossi ha 1904 Quasi 200 in più solo in statistica in game Ed è tanto È tanto È tanto Rossi è assolutamente una punta più completa Un attaccante più completo Invece Inzaghi una punta d'area di rigore Uno di quelli che ti saranno proprio da finalizzatore E basta Ecco perché all'inizio ho detto che 3-2 preferisco Rossi Anche se nella realtà Inzaghi è uno dei miei cacciatori preferiti di sempre Il prezzo di Inzaghi invece sta tra i 120.000 e i 190.000 crediti Quello di Rossi invece tra i 150.000 e i 5.000 crediti E allora adesso state vedendo i miei pro i miei contro e il mio voto finale sulla carta Io vi ricordo ancora di commentare qua sotto scrivendo un'altra leggenda di cui voi vorreste vedere la controparte economica Io vi ricordo che sempre provo a cercare sia la versione della stessa nazionalità Che non della stessa nazionalità Solo che stavolta mi sembrava già preciso darne uno solo Perché può fare tutti e due, può fare entrambi Se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al mio canale E commenta da BOM777 È tutto Ciao a tutti Ciao a tutti